La Commissione europea cita in giudizio l'Ungheria per la controversa legge sulla difesa della sovranità nazionale, sarebbe lesiva dei diritti fondamentali delle persone. Mark Rutte visita Kiev nel suo primo viaggio da segretario generale della Nato. Nelle sue parole, l'Ucraina e l'Alleanza Atlantica sono più vicine che mai. Guerra in Ucraina, attacco russo su Kharkiv, colpito un edificio residenziale, almeno 12 feriti tra cui un bambino di 3 anni. Biden dice no agli attacchi contro i siti nucleari iraniani. Israele dichiara Guterres persona non grata, impedito l'accesso nel paese al segretario ONU. Budapest in tribunale per la controversa legge sulla sovranità nazionale. La Commissione europea ha citato in giudizio il paese perché la norma viola i diritti fondamentali garantiti dall'Unione europea e dalla legislazione europea sulla protezione dei dati. La legge adottata dal Parlamento ungherese ha istituito un ufficio per la difesa della sovranità per indagare su persone e organizzazioni sospettate di minare la sicurezza e l'identità costituzionale del paese. Allo stato attuale la Commissione europea non ha richiesto alcuna misura provvisoria, pertanto l'ufficio potrà continuare le sue attività. Mark Rutte si è recato in visita a Kiev. Si tratta di un viaggio che non era stato preannunciato, nel corso del quale il segretario generale della NATO ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Perrutte è la prima visita ufficiale da quando ha assunto l'incarico al vertice dell'Alleanza Atlantica. Nella capitale ucraina ha promesso di continuare a sostenere Kiev nella guerra contro la Russia. We know the need is urgent, and we are working hard to do more and more quickly. In the last few weeks, several allies announced further military aid for Ukraine, including new contributions from Denmark, from Latvia, the United Kingdom, and nearly 8 billion dollars of assistance from the United States. Rutt nel corso del vertice ha anche annunciato la creazione di un nuovo comando, il cui obiettivo è di coordinare il sostegno concesso all'Ucraina, ma anche il processo che punta all'adesione della nazione europea alla NATO, che secondo lo stesso ex primo ministro olandese è più che mai vicina. Zelenzky ha anche fatto sapere di aver discusso con Rutte di alcune questioni militari in vista di un incontro che si terrà a Rammstein in Germania la settimana prossima. Almeno 12 persone sono rimaste ferite a causa di un attacco russo sulla città nord-orientale ucraina di Kharkiv, nella notte tra mercoledì e giovedì. I funzionari locali hanno detto che una bomba guidata a Kaaba ha colpito un edificio residenziale di cinque piani, innescando un incendio. Tra i feriti c'è anche un bambino di tre anni e potrebbero esserci persone ancora sepolte sotto le macerie. Giovedì le autorità ucraina hanno fatto sapere che nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno causato la morte di due persone e il ferimento di altre 41. L'aeronautica militare ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato sull'Ucraina durante la notte 105 droni tipo Shahed. 78 sono stati abbattuti in 15 oblast, mentre sono state perse le tracce di altri 23 e uno è volato verso la Bielorussia. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che non sosterrà un attacco israeliano contro siti legati al programma nucleare di Teheran, quando gli è stato chiesto della possibile risposta di Israele all'attacco missilistico dell'Iran di martedì sera. I commenti di Biden sono arrivati dopo che lui e i leader del G7, tra cui i ministri degli esteri di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, hanno parlato telefonicamente mercoledì per discutere del coordinamento delle nuove sanzioni contro l'Iran. Israele ha impedito al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di entrare nel paese, dichiarandolo persona non grata. I membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno ottenuto una riunione d'emergenza mercoledì per discutere dell'attacco dell'Iran a Israele. L'ambasciatore di Israele presso le Nazioni Unite ha affermato che l'ultima dichiarazione di Guterres, che chiede una de-escalation del conflitto medio-orientale, è distaccata dalla realtà. Il segretario generale ha poi condannato l'attacco dell'Iran durante la riunione, ma allo stesso tempo ha esortato Israele a non ostacolare gli sforzi per il cessato del fuoco, sia in Libano che a Gaza. La Georgia si avvia verso le elezioni legislative del prossimo 26 ottobre. Il paese del Caucaso è polarizzato tra un governo filorusso e un'opinione pubblica vicina all'Europa, incarnata dal capo di Stato Salome Zurabishvili. I negoziati per l'adesione della Georgia all'Unione sono stati congelati lo scorso giugno. La Presidente ha proposto ai partiti filoeuropei di firmare una carta comune. In vista dei elezioni, il ci resta un anno, l'Europa non può niente fare, sino confermare che se le elezioni sono remportate per i partiti pro-europeens, se la charte è mise in applicazione molto, molto, molto dopo le elezioni, dès che il Parlamento sarà formato, che le primiere mesura sono prisa, che l'Unione Europea dice, dès oggi, che lei sarà pronta a mettere in oeuvre, lei anche, a riprendere la conversazione là dove si è arrata. L'attuale maggioranza politica della Georgia ha adottato leggi che si ispirano alla normativa russa quando si tratta di limitare drasticamente la libertà delle ONG e i diritti civili. Se l'opposizione pro-Unione Europea vincerà le elezioni, la Presidente dovrà cercare una soluzione. La sfida è dunque vasta, in vista delle elezioni legislative, che rappresentano una linea di discrimine. Incuneata tra Russia e Iran, la Georgia è oggi una piattaforma geopolitica, un paese che ospita i migranti provenienti da entrambi i paesi. D'immigrazione iraniana, non c'è di nombro croissante. Ci sono alcuni periodi dove c'erano molti più, che sono attirati per gli investimenti in Giorgia. E per una ragazza che non conosco molto bene, ci sono alcuni meno di oggi. Visso dei russi che vengono s'installare, non c'erano davvero di conflitti. e la meriterà, senza dubbio, un po' più di sorveglianza prudente per le autorità, perché nel numero di questi 60.000 dovrà sicuramente avere persone che servono di altri interessi che le nostre. Gli attivisti e gli esperti presenti al Vertice sul clima di Baku avvertono che gli eventi climatici estremi stanno minacciando l'approvvigionamento alimentare mondiale in vista del Vertice delle Nazioni Unite Copa 29 di novembre. Gli oratori intervenuti alla settimana d'azione per il clima di Baku hanno sottolineato l'importanza dei porti come ancora di salvezza. Gli uragani e l'innalzamento del livello del mare stanno interrompendo la capacità dei porti di operare, bloccando il flusso di merci dal cibo alle forniture mediche e mettendo sotto pressione le catene di approvvigionamento. I ricercatori stimano che ogni anno siano al rischio 73 miliardi di euro a livello globale. There are 17,000 ports around the world and 30 million individuals work directly within them. So it's not just imports and exports and people's livelihoods are dependent on ports. The countdown to COP29 is on in Azerbaijan. The country says one of its focuses will be on water. It wants communities to come together and create knowledge hubs, sharing information that will lead to policies that will protect water basin. Un altro argomento discusso al vertice è stato il modo in cui la tecnologia potrebbe mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici. Ci si chiede se i vertici annuali porteranno a reali miglioramenti per l'ambiente. Molti sono fiduciosi del fatto che non si tratta solo di chiacchiere ma di progressi reali. La peste suina continua a colpire le regioni del nord Italia minacciando i mezzi di sostentamento degli allevatori e la produzione di derivati alimentari rinomati in tutto il mondo. Le regioni che preoccupano maggiormente sono il Piemonte, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. I danni alla filiera che vale 20 miliardi di euro sono stati stimati finora in 500 milioni. E dalle analisi fatte abbiamo purtroppo scoperto il virus della peste nel nostro allevamento. Sono immediatamente scattate tutte le procedure che la normativa prevede con l'abbattimento di tutti i capi presenti in allevamento, quelli malati e purtroppo anche quelli sani. Quando la malattia è stata riscontrata, 12 paesi, tra cui Cina, Taiwan e Messico, hanno imposto il divieto immediato di importare carne e suina italiana. indipendentemente dal fatto che sia stata prodotta in un'area in cui la peste suina è stata rilevata o meno.